Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu fai con il suono. Come piano forte. Non quando c'è il suono. Io sono andato a dire, all'interno, tu fai questo gioco. Io faccio il gioco. Scusate, mi prego. Never. Ok, questo non c'è il direttore. Questo è un'orchestra, dirige il direttore. Il direttore è 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 direttore. E se lo scontro a direttore. Il direttore è direttore. Fa tutto a prima colore. Fa tutto a prima colore. Grazie. 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 Guarda. Grazie. 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 Un bel Getty. Aguante. just rest